Campo Basso avrà una strada, una piazza dedicata a Lea Garofalo. In Consiglio Comunale è stata approvata all'unanimità una mozione in materia presentata dai consiglieri del centro-sinistra. La nostra città, ha detto il sindaco Roberto Gravina, ricorderà e trasmetterà la memoria di ciò che la vita di Lea Garofalo ha voluto rappresentare con il suo coraggio e la sua capacità di non piegarsi alle nefaste consuetudini mafiose. E ringrazio i consiglieri del PD e la sinistra per Campo Basso per aver portato l'attenzione sulla figura proprio in questi giorni particolari. Infatti, la morte per Lea Garofalo giunse purtroppo proprio nel mese di novembre, un mese dedicato anche istituzionalmente ad iniziative di promozione delle pari opportunità e di contrasto alla violenza e alle discriminazioni. Lea Garofalo, uccisa dall'ex compagno per non aver voluto rispettare il vincolo mafioso del silenzio ed avere invece testimoniato sulle faide interne tra la sua famiglia in Calabria e quella del suo ex compagno Carlo Cosco, è entrata nel programma di protezione per i collaboratori di giustizia nel 2002 insieme alla figlia Denise, trasferendosi poco dopo a Campo Basso dove è rimasta fino alla sua scomparsa a Milano il 24 novembre 2009 e dove era riuscita a fuggire ad un tentativo di rapimento messo in atto dall'ex compagno.